Ci sono due luca d'otto, il nuotatore agonista che cerca chiaramente di migliorare sempre quella sua performance e poi la parte che preferisco che è il nuotatore libero, libero da quelle che sono i limiti di una corsia, del tempo o del cronometro libero di potersi godere a pieno quella che è soltanto l'elemento dell'acqua